La bandiera olimpica è sbarcata in Italia, stretta tra le mani dei sindaci di Milano e Cortina. Il traguardo dei giochi olimpici invernali del 2026 dunque è sempre più vicino. Si lavora su più fronti per essere pronti davanti agli occhi del mondo. Nelle ultime ore è stato approvato l'accordo di programma per la riqualificazione di una delle opere simbolo dell'Olimpia di Milano-Cortina, la pista da Bob Eugenio Monti. Ma c'è un capitolo che riveste un ruolo fondamentale ed è quello delle infrastrutture. Lo sbocco a nord e la mobilità intervalliva le priorità, ma ci sono altre opere in cantiere che rischiano di non vedere la luce entro il 2026. Abbiamo preso che probabilmente la variante di Longarone e di Cortina saranno consegnate forse nel 2028. Ecco, io questo la considero una vergogna. E mi chiedo se succede perché siamo nel territorio di Belluno. Perché fondamentalmente, mi chiedo anche, fossimo in provincia di Verona, di Vicenza e di Treviso, saremmo così in ritardo? Io purtroppo la risposta ce l'ho e non è positiva. Un'analisi amara, quella della numero uno degli industriali bellunesi di fronte a risorse che oggi, rispetto al passato, sono a disposizione del territorio ma che hanno bisogno di una programmazione. Siamo a Belluno, una provincia che si sta spopolando in modo preoccupante e a questo punto non mi chiedo nemmeno perché siamo veramente in qualche modo trascurati. Sembra quasi che le Olimpiadi siano una cosa. Sì, l'abbiamo deciso, le facciamo, dopodiché si arrangino i bellunesi. Non è così. Questa è una responsabilità nazionale e regionale che non ricada su Belluno perché non abbiamo intenzione di prenderci questa responsabilità. Chiedo ai politici che rappresentano questo territorio di essere in prima linea e assolutamente di fare in modo che questo non accada perché il bellunese ci rimetterà nuovamente e non sarà colpa del bellunese ma sarà colpa di chi queste cose le doveva fare e le sta facendo in ritardo.